Siccome do molta importanza all'amicizia, volevo leggere questo che ho scritto proprio, che ha a titolo Amici. Scusate se non la ecco così bene come le nostre due leudici sono state, veramente, io vi ringrazio veramente, molto, molto bravo. Come vi ringrazio l'accompagnamento musicale che è stato eccezionale. Grazie a voi. Amici, quando da solo nella buia foresta calpesti gli aghi di pino, paziente, quando ascolti le voci dei totem di pietra, quando rivolgi lo sguardo smarrito ai danzanti fuochi fauti di ieri, quando gira la ruota l'oscuro fratello Galberdi, allora risuona silente il grido richiamo Amici. Allora saprai di non essere naufrago, allora saprai che tendendo le mani, mani troverai, e dalle acque sorgeranno sabbie e delfini, dal passato presente torneranno, gli amici torneranno. Solo il monotono pendolo conosce il male del mattino e le notti sbarrate di spettri fumosi e danzanti e le dolci chimere che come mobioli e crudeli continuano a vedere. Quali abissali di rubi apriranno le fauci domani, quante gocce di cloruri righeranno sentieri rugosi, ma torneranno, gli amici torneranno. Soleranno allora antiche cornavuse come trompe, saliranno al cielo le edere e timidamente Marcello che ascolta narrare ricordi di antichi ed erranti vichichi. E Franco Guerriero aspetta come ieri aspettavi a Aurora, aspetta ancora l'argilla ormai disseccato dal tempo. Noi siamo gli stessi diversi. Noi siamo gli stessi. Diversa corteccia che avvolge i vecchi ragazzi da Roma. Sognanti vol di acqui d'albine che fluono assieme a Roma mai solo, mai sperso nei nostri sale, mai naufrago sull'Ili assolati, mai tenebra in tenebra nera, dovremmo soltanto lanciare il richiamo di allora. Gli amici torneranno e Franco, Marcello e Roma torneranno e Gianni ancora sorprendente. Scusate, mi sono commossa. Ti basterà stendere una mano che sempre torneranno a sollevarti. Noi siamo gli stessi diversi. Applausi e stendere una mano Grazie a tutti